Venerdì 14 marzo Cancro avrete l'audacia giusta per realizzare le vostre proverbiali intuizioni, fate però attenzione a non coinvolgere nei vostri affari persone ambigue. Leone sorretta da Marte in bilancia, ma lesa da Mercurio in acquario e Saturno in scorpione, la luna transita nel vostro segno con effetti contraddittori. Vergine col vostro acume riuscirete ad andare al di là dell'apparenza e delle problematiche che si presenteranno per andare dritti all'essenza. Bilancia avrete le carte in regola per affrontare e risolvere i problemi più disparati. Scorpione, avete avuto la calma e la volontà di fermarvi, di sedervi sulla sponda del fiume ed aspettare ed ora finalmente raccoglierete le vostre soddisfazioni. Sagittario, perché lasciar sempre correre quando qualcuno vi peste i piedi con fatti di serie di poco conto ma fastidiosissime? Non mostratevi sempre superiori, se la cosa vi fa arrabbiare decidetevi ad affrontare la situazione in modo diretto e inequivocabile. Capricorno in famiglia e con gli amici, visto il transito nel segno di Plutone fate attenzione nel mettere in atto giochi di potere che potrebbero ritorcervisi contro. Acquario, invista qualche inciampo con mercurio ostile alla luna che almeno per oggi vi impedirà di gustare appieno l'arrivo prossimo della primavera. Pesci, vi sarà chiesto di prestare assistenza a persone sofferenti o partecipare a opere di bene a vantaggio di persone indigenti e bisognose d'aiuto. Dimostrate il vostro spirito d'iniziativa organizzando delle iniziative umanitarie. Dimostrate il vostro spirito d'iniziativa